Musica 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 Mi sei speciale Mi fai il tuo bene se tu futura e nessuno vede a me sotto è vero che non mi riuscita a me e poi mi fa quelli che puliamo quando sei di questa casa lasciate che vede a tutti Dottorio che ti sordo Dottorio che ti sordo Dottorio che ti sordo mamma non mi riuscite a me Dottorio non mi riuscite a me Attenzione fan di film drammatici perché il celebre sito Rotten Tomatoes ha stirato la classifica dei 100 migliori film drammatici di tutti i tempi assolutamente da non perdere ed ecco la top 5 al primo posto c'è Quarto Potere del 1941 al secondo posto c'è Eva contro Eva del 50 terzo posto Il Padrino del 1972 scendendo dal podio quindi al quarto posto troviamo Metropolis del 1927 e poi seguito da Casablanca del 1942 siete d'accordo con questa classifica? voi invece che film drammatici consigliereste? fatemi sapere scrivendo qui sotto e cliccate qui accanto proprio qui se volete vedere altri video ciao a tutti